La città di Giuliano inizia a tingersi di rosa per il Giro d'Italia che passerà in fascia costiera nel primo pomeriggio di sabato 14 maggio. Stamattina c'è stato un giro in centro del Comitato dei ciclopasseggiatori con esponenti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. Ospite speciale Claudio Chiappucci, il campione di ciclismo che negli anni 90 conquistò il soprannome di El Diablo. Dire che ogni volta che scendo in queste zone ho sempre trovato un grande riscontro, tanti tifosi e tanta voglia di vedere il ciclismo. In questo caso anche il Giro, perché il Giro comunque è un evento importante per gli italiani. Manca poco e quindi questa è proprio una preparazione per questo momento che sarà molto importante anche per la città. Un momento anche per incentivare l'uso della bicicletta. La bicicletta diventa anche una passione, lo sto vivendo anche io adesso, perché comunque dopo tanta competizione la bicicletta ti dà soddisfazioni, girare, guardare in giro per il mondo quello che magari anche come competizione non puoi vedere perché sei impegnato mentalmente su altro. È bello, perché la bicicletta ti porta in giro, è economico, è salutare. Cosa si prova a tagliare un traguardo di un Tour de France o di un Giro d'Italia? La grande soddisfazione è di raccogliere il frutto di quello che è stato il risultato della semina, dell'allenamento, delle fatiche, di lasciare da parte anche a volte la famiglia, da parte altre cose, altre situazioni che però ti portano poi a raggiungere l'obiettivo che è la vittoria. È stata presentata stamattina al Comune di Giuliano la tappa del Giro d'Italia che sabato 14 maggio nel primo pomeriggio attraverserà la fascia costiera. Uno dei momenti più attesi è il traguardo volante dinanzi al sito archeologico di Liternum al Lago Patria. Una giornata di festa quindi ed una vetrina internazionale per le bellezze del territorio. Un evento internazionale per la nostra città, il Giro d'Italia, sabato la città di Giuliano si tinge di rosa. La nostra amministrazione comunale tra gli ultimi progetti che abbiamo vinto nel PNRR città metropolitana è prevista anche un'ulteriore pista ciclabile. Quindi oltre alla Ciccomo Lago ci saranno piste ciclabili anche al centro di Giuliano. Partiamo da zero ma con i finanziamenti che abbiamo ottenuto sovra comunali sicuramente metteremo tante piste ciclabili nella nostra amata città. Sì l'amministrazione ha creduto forte in questo evento. Ringraziamo città metropolitana che ha potuto darci una mano ed ha promosso questo evento. Noi stiamo facendo la nostra parte. Io penso che Giuliano stia vivendo una giornata particolare che parte proprio oggi con la conferenza stampa e col Giro insieme al sindaco, all'amministrazione e a Claudio Cappucci, uno dei più grandi corridori d'Italia, proprio per dare inizio a una settimana di festa. Ci saranno postazioni con megaschermo, ci sarà la possibilità di vivere questo evento e rimanere nella storia. Questo particolarissimo evento che è il passaggio nel territorio del comune di Giuliano, nell'ambito di una tappa che storicamente, bisogna ricordare che Napoli è stata presente nel Giro d'Italia fin dalla nascita. Quindi la tappa che presentiamo oggi con il passaggio nel comune di Giuliano, io credo che sia un evento che è gradevolissimo ricordare.